Bene, rieccoci qua per una nuova puntata di HTML e CSS Allora, la scorsa volta ci eravamo lasciati parlando dei vari stili che possiamo dare ai nostri paragrafi e ai nostri titoli Ricordate, abbiamo dato un colore, una grandezza, un font family Apriamo il Weaver e andiamo a vedere cosa abbiamo fatto Abbiamo creato tre titoli, due paragrafi e abbiamo dato ogni H1 uno stile, tutti gli H2 un altro stile, H3, P, uguale a uno stile E ovviamente al body, abbiamo dato anche un colore di pagina per creare uno stacco Allora, in questa puntata vedremo brevemente i vari tipi di allineamento del testo Che sono di quattro tipi, ovvero a sinistra, in centro, a destra e giustificato, quindi a blocchetto Allora, ovviamente a sinistra il testo sarà a sinistra, in centro, in centro e a destra sarà a destra Giustificato invece cosa vuol dire? Vuol dire che quando avremo un paragrafo vedremo il nostro testo a blocchetto Quindi partirà qui e finirà esattamente qui Ovviamente il testo verrà leggermente stirato, passatemi il termine, per andare a creare appunto il nostro blocco Vediamoli subito Allora, mettiamo a caso che il nostro H1 vogliamo allinearlo a destra Aggiungiamo questa regola che è chiamata text aligner Text aligner e viene detto a destra, quindi right Salviamo Andiamo a ricaricare E vediamo che il nostro H1 si è allineato a destra appunto Ora, stessa cosa col sottotitolo Vogliamo allinearlo però in centro Quindi text aligner Center Salviamo Torniamo su Chrome Ricarichiamo la pagina E eccolo qua, uno a destra, uno al centro E questo di default rimane a sinistra Volendo potremmo per una maggiore leggibilità Allinearlo a sinistra Ma non cambierà niente perché comunque di default il testo è allineato a sinistra L'ultima regola è quella giustificata Quindi andiamo a giustificare questo blocchetto Anche qui utilizziamo la regola text aligner Ma questa volta Ma questa volta usiamo la caratteristica, la proprietà justify Che è praticamente, vuol dire appunto giustificato In questo caso vediamo cosa succede Ecco qua Tutti i nostri IP, questi paragrafi Prendono questo stile giustificato Che è quello che si legge a volte sui giornali Che si vede molto spesso sui giornali Questo blocchetto E niente, quindi abbiamo visto tutti i nostri allenamenti A destra, in centro, a sinistra E giustificato Questa cosa sembra molto banale Ma sicuramente tornerà utile E verrà usata molto Bene, allora ci vediamo alla prossima Grazie ancora E niente, buona giornata a tutti Grazie mille Grazie mille